sono qua di luna sono uscita dall'ufficio e ora invece di andare alla stazione sono alla fermata dell'autobus prendono la M10 e vado a Lido viene dalla 119 di Frederick Douglass che veramente ottava quindi aspettano la fermata sono dall'ufficio alle 6 e mezza di mattina e fa un caldo da morire veramente sono dall'autobus sono su Frederick Douglass Boulevard che in teoria è 8 avenue solo in Harlem 8 avenue si chiama Frederick Douglass Boulevard che dà onore a persone importanti nella cultura afroamerica devo andare da 145 a 119 e vado nel centro di Mono dove c'è Lido questo Lido è in due piani perché il posto è stretto quindi vanno in su sono molto curiosa di vederlo quindi ci sentiamo in un pochettino ciao ok sono uscita dall'autobus solo per camminare un pochettino qua siamo in centro proprio Harlem è molto più carino è molto più carino qui tanti palazzi nuovi si è una zona più più benestante diciamo di Harlem quella centrale sono casi per milioni di dollari però c'è un bel mix di persone vedete qui Harlem cioccolà avete capito? ristoranti carini ecco ci siamo quasi arrivati e sull'ottava o Frederick Douglass Boulevard è 119 Ganache, Corby se tutti i Ligo sono in zone abbastanza benestanti up and coming quindi hanno scelto una bella zona un'area centrale e questa cos'è? Pinateria? avete capito? ecco Patisserie quel taglio tornavano molto bene e noi ovviamente andiamo al Nido nella città di New York ci sono solo due questo è una in Queens di New Jersey o in altri stati Harlem Burger ecco qui ma chi vi porterebbe a un Lido in Harlem? Lido Food Market e alle le altre belle delle piante ecco qui hanno l'aria forno abbiamo qui La pasta, le pizze, hanno tutto il petto, qui giù hanno tutti i snack, il succo d'arancio, la verdura, è tutto sistemato un po' diverso. Comunque ho fatto un giro breve solo per darmi un'idea dei prezzi. Ho notato sulla carne e il pollo i prezzi erano quasi uguali, sulla verdura leggermente un po' di più, ma stiamo in centro di New York, quindi sì, ma non era niente di esagerato. Ora si va in giù, questo Lidl è molto piccolo, è piccolo, però hanno tutto, ce l'hanno fatto stare tutto, quasi. Giù c'è, è separato in un modo strano perché non sono abituata. C'è una promozione diversa ogni settimana, quindi le promozioni che ho colto io non ci sono questa settimana, non ho altre. Era molto pieno di prodotto, era ben fornito. Vi ricordate questi qui, che io pensavo 2,99, era caro? L'hanno aumentato come era 4 dollari e spicci, no thank you, quei piccoli citrioli, no. Comunque erano ben forniti, avevano delle verdure che non hanno al mio Lidl, pieno di mele. I prezzi sono super giù uguali, certe mele costano di più di altre, come al Lidl dove vado io, però avevano sempre delle offerte. Il loro punto forte, tutti i Lidl, è la carne e il pollo, prezzi e 30% di sconto di sicuro. Avevano, dato che questo weekend è Labor Day, tanti panno barbecue, non avevano tanto salmone. Salmone, guardate quanto salmone avevano, tutto fresco, per veramente tanto, di pari prezzi. Quello canadese costa di più e ovviamente avevano i miei gamberi che ho preso, li ho visti qui, stesso prezzo, 7,99, quelli di Argentina, validi, già mangiati. Cos'altro c'è qui? Ho capito il prosciutto e certe cose, ce l'hanno in questi, è tutto messo in modo diverso, però questo posto è il più grande del mio in un certo senso. Tutti gli affettati nelle buste, come piace a noi, il prosciutto. Infatti hanno levato tanti preconfezionati, i formaggi, anche quelli che ho preso io nel weekend, ce l'hanno anche, sì, sì, stessi prezzi. La varietà del latte qui è meglio del mio Lidl, però, eh. Tra tutti i latti di soia, di latte di bovino, mandorle, proprio la scelta, l'imbarazzo della scelta, guarda. Cos'altro c'era qui? Il gelato, penso che i gelati erano leggermente più cari, però, quelli che io prendo, quello al pistacchio. Leggermente, forse di pochi centesimi, però il risparmio al Lidl è la carne e il pollo. Ecco il gelato. Sì, sì, erano ben forniti. Non so come ci hanno fatto stare tutto in questi due piccoli piani, ma ce l'hanno fatta. Ovviamente, cartigienica, go, go. Sono ripassata a guardare la carne, perché la carne è il loro punto forte, la carne è ottima, tutta Angus, a prezzi favorevoli. Forse qui era, non so, 40-50 centesimi in più, perché siamo a New York. Però era l'imbarazzo della scelta, proprio per un martedì. Stavo guardando tutto il suino, il filetto di suino, i prezzi osceni, troppo bassi. Il tacchino che prendo io era un dollaro, io l'ho pagato 7,44, qui era 8,44, però vabbè. Hanno il pollo che loro hanno, hanno prezzi, un mio prezzo preferito, che al mio lito non c'è, quindi vedi. Poi gli avvocato avevano, quelli bio, erano 4 per 5 spicci, che è un buon prezzo per bio. Vedi, 5,59 per 4 biologici, quindi quello è un buon prezzo. Però se prendi organic, altrimenti costano di meno. Cos'altro c'è qui? Sì, qui dove è la yucca. Questi hanno i cereals. Avevano più scelte qui, che al mio lito. E cos'altro? Sì, tutti i cereals. E' tutto messo in posti diversi. Poi avevano quest'aria a casa, che è molto piccola, perché non è un'aria sfruttata, perché si compra meglio altrove. Però hanno delle cosettine così, poco. Perché si compra meglio in altri posti, perché c'è altra scelta. Quindi questi cartelli di legno sono carini. Cos'altro c'è qui? Qui sì, avevano la yucca, che dal mio supermercato non c'è. C'erano i plantains, perché piace molto nella cultura afro-americana e hispanic. Sì, sì, era... E tanta verdura è proprio della zona Pennsylvania, New York. Quindi hanno fatto un buon... Sì, sì, provano a comprare sempre la frutta e verdura locale, specialmente ora che c'è. Abbiamo il cavolfiore, no, il cavolo. Tanti mango, sagogo. Proprio una scelta. Tante mele, pere, proprio... Non so come ce l'hanno fatta stare, però hanno fatto un buon lavoro. Ora si va su. L'area del pane e del forno è uguale. Sono tutti uguali, guarda. Sì, sì. E poi hanno un'altra area di affettati, anche su vicino all'area forno. Comodo questo, se puoi fare i panini. Sono furbi questi qui, eh. Hanno i jelly donuts. Che jelly donuts? Al mio lito non ci sono. Eh, non mi piace. Qua hanno i jelly donuts, 99 centesimi l'uno. E qua so. Io ho preso due baguette, solo quello. Ho preso due filoni. Questo è il mio shopping. E ora vado verso... Vado verso la... Sabuè. Io ho una sete. Oggi è quasi... 338. Ok. Ci sono certe cose che hanno, che sono molto tipiche afro-american, che hanno qui, che non hanno il mio lito. Quindi hanno adattato al consumatore. Buona cosa. Hanno plantains, yucca, cose che non si trovano al mio lito. Ora ho una sete. Mi devo fermare a bere qualche cosa. Però ho preso due baguette. Queste non le ho portate a casa. Ok. Mi ferma questo Holland Tavern. Carino qui. Guardiamo il menù. le carnitas, le carnitas e i miei prevedi. Quindi scegli tre taco. E ci ti danno chip salsa e una margherita. Ti danno original peach, coconut, mango, watermelon, strawberry. Quindi 25 dollari. 3 tacos, chips, salsa e una margherita. Se vuoi il guacamole è 3 dollari in più. Quindi 3 dollari. 25 dollari. Non male. Ma io ho già mangiato. Però io mi voglio prendere... Voglio prendermi una... C'era un drink. Wow, il mojito. 14 dollari. Sì, quello è... Colada, pina colada, daiquiri, life's a peach, column sunset. E alto silver tequila, white peach, banana. Wow. No, scusa, ho detto sbagliato. Alto tequila, mango, strawberry, white peach. Silver surfer. Don Pulano tequila, blue curacao, margherita mix. Don Pulano. Sì. Boh. Un bicchiere di prosecco è 12 dollari. Che non è male. Io mi prendo una... Non so, una sangria. White rose. And the rose sangria. Ok. Quindi questo posto è Frederick Lewis Boulevard, è 116. Sì, 116. Mi sono fermata qui. È molto carino qui, questa tavern. Ci piace. I prezzi sono... I prezzi sono... Insomma, normali. Però mi piace come l'hanno fatto fuori. C'è anche dentro, al bar. Carino. Ora ho prezziato una semplice margherita, senza troppi intrudi dentro. Ad esempio. E' proprio lì c'è la metropolitana, non neanche l'alborista. La dietro c'è lì, quindi perfetto Ci siamo Ecco la mia margarita La tequila Te la mettono separatamente Questa è la tequila E puoi mettere quante ne vuoi Io non ne voglio tanto Vediamo Ok Non bello, tanto sale È bella grossa È normale Meno male non ho messo tutto Tequila è potente Questa è la tutoria Sì, sì, è molto carino qui Quello sarà consiglio Questa parte di Harlem È tutta molto carina Se venite qui Venite dopo l'uno e mezzo Tutta quella Quella tempistica del pranzo è finita Infatti siamo l'uno e mezzo ora È taka strazza Allora 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 Let's go